Sono spostato nel reparto animale. Guardate i bambini che mi piazzano gli asilei. Abbiamo Rafflinger. Faccio ciò. Sono curioso. Vieni, 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 vieni. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ah, hanno un reparto volatilico. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ma io, io, ancora un'altra? Sì, sì. Questo è qua. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.